È partita da Sassari la campagna nazionale dell'INAIL dedicata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro a confronto nell'Aula Magna dell'Università oltre ai vertici dell'Istituto esperti del settore e imprenditori. Giovanni Pinna. La campagna nazionale parte da Sassari, la prima delle 23 tappe del forum con cui l'Istituto illustra il piano triennale di prevenzione 2022-2024 coinvolti sindacati, istituzioni e imprenditori ai quali l'INAIL offre con il bando ISI un contributo a fondo perduto dal 65% fino a 130.000 euro per interventi che migliorino la salute e la sicurezza dei lavoratori. Elaborare politiche efficaci richiede infatti la capacità di calarsi nei singoli contesti territoriali facendo rete per individuare i rischi specifici di ogni branca produttiva e contrastare il fenomeno degli infortuni spesso mortali e delle malattie professionali. Nell'isola il numero maggiore di casi gravi si registra nell'edilizia ma sono in aumento del 25% patologie legate a lavori usuranti nel turismo e in settori dove il sommerso è una realtà diffusa. Noi dobbiamo combattere la non legalità. Ci sono molti imprenditori che la maggior parte rispettano le norme. Dobbiamo lavorare dove le statistiche servono anche a quello, dove non c'è rispetto delle norme. Grazie! Noi dobbiamo fare!